No Ho urtato entrambi Ok, un altro è morto L'ha ucciso una compagna Ok Non sono molto forte L'ho ucciso una forte L'ho ucciso una Sì, ma sono stranabili, sono il mio boss Aveva costruito i troll Ho utilizzato le pistole in faccia Vuoi assaggiare il mio cannone? BAM Oh 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 Ma regà, posso che si senti male? Gli ho tirato una mini in faccia No, non mi ho tirato una Gli ho tirato Ah, l'ho preso Ho ucciso mia compagna Ho ucciso il mio compagno Ho ucciso il mio compagno Ho ucciso il mio compagno Mi ha ucciso un altro Regà, sto continuando a mettere il mio compagno Ok, abbiamo vinto È stato mio compagno venti volte Boh, però ora incontriamo gente straforte Perché stiamo andando avanti con la classificata Questa comunque si fa la più partita come quella di Fortnite Per caricarla ma Ok, qua si inizia Io sono sempre Zaya Ho a sceglia Ok, prendo la spada C'è il cannone Ho detto uno No Eh, sono forte, sono forte No! Ma cosa ho fatto? Oddio! Come mi sono salvato! Ok, c'è la pistola C'è la pistola C'è la pistola Ok, c'è la pistola Bravo! Oh! Oh! Si c'è una calmata Oh! Mamma mia! No! No, volevo prendere Ok, questi cazzo Ci stanno adesso Madonna, quella bomba Raga, è troppo divertente questo gioco Nel caso volete scaricarlo Si chiama Broalla Ed è veramente bello Questo che sia uno dei giochi migliori, madonna Cioè, almeno più divertenti Dove puoi divertirti Non devi portare a dare Veramente bello Oddio No, ho preso la... Mi sono ucciso da solo Ho preso la mia mina C'era che io ho lasciato la mina E l'ho presa da sola Cioè, sono il fenomeno Ok, cazzo Cosa è quella? Tipo una granata a spuntone? Gli lancio... Io ho lanciato le pistole Raga, io sto lanciando tutti gli oggetti Te, becco tutti No, ho soltato il mio cannone Eh, 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 eh Raga, non mi prende! Stavo saltando sul posto Il piccchiappa Oh, la bomba Prendimi, prendimi Ehi, eh, 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 raga Questo è il tazzolino mi ha preso Ehi! Prendimi, 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 prendimi! Oh! Ho tirato un cannone in porta. Oh! Oddio, che bottiglia è tirato! Porco schifo! Oddio, che bel gioco! Ora io proverei a mettere lei. Non... cioè, ci gioco poco con lei. Non so se forse. La devo testare. E ragazzo, perdo, dai, abbonatemela. Non so giocarsi con lei. Sono con Diana, signori. Che voi se vedete... Allora, io ora sono la cinesella, lì... E lì, 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 lì. Scusate, sono al bene. Quindi la cinesella. Ok? No, il cannone no. Non mi piace il cannone. Eh, ciao, se sottopo di questo. No, non dovevo metterla. Non dovevo metterla. Non so giocarci con lei. Madonna. Non c'è un'arma. Lei non è male. Beh, oddio, lo sto distruggendo, quello là. Ma riga, sono straforti. Ok, non è andato. Poi abbiamo fatto una moscia di coppia. No, dobbiamo puntare. Oddio. No, porco schifo. Raga, comunque il vector, cioè, ce l'hai sullo shopping, non posso tenerlo con io. No. No, 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 no. No, no, non va bene. Non va bene questa cosa, non va bene. Madonna, ho sceso una. Ora, è così il suo amico. No, 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 no. Eh, sono morto, sono morto Eh, lo stavo caricando Questi qua ci erano Mamma mia, mamma mia Il cannone Mamma mia, double kill Oh, ne manca l'ultimo Penso che abbiamo vinto Sì, abbiamo vinto Io ho una vinta, ho due due Ma che fa? No, però questo qua è quello forte No, le mine Bravo No, non c'è più l'arma No Ho colpito il mio amico No, raga, se la perdiamo perché lo stiamo trollando, mamma mia Ecco, la perdiamo perché lo stiamo trollando Stai pure avendo forte Oh no Mi sono suicidato Non ci credo Sono morto Non sono morto Ma che sta fa? Ok, è iltato No, però io mi sono morto Ok Ok, ora ce l'ho Ancora vivo Ok, ora no Mamma mia Vabbè, io direi che bisogna concludere qua Bella Alla Ciao Ciao Grazie.